Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo una nuova tenda da trekking di Ferrino, modello TAR, da due persone. Una tenda, come dicevo, da trekking molto leggera, di cui adesso vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Iniziamo, come al solito, dalle caratteristiche di questa tenda. È una tenda da trekking autoportante, doppio telo, con un'impermeabilità per il telo esterno di 2000 mm di colonne d'acqua e per il catino di 2500 mm di colonne d'acqua. Il tutto per un peso dichiarato di 1,8 kg. Detto ciò, iniziamo con il nostro consueto giro attorno alla tenda per vederne i pregi di fette. Iniziamo con il nostro consueto giro attorno alla tenda e vi faccio vedere la prima parte anteriore dove troviamo la paleria. Iniziando dal basso, qui troviamo naturalmente il picchetto che sono andato a mettere prima per terra. Come vedete c'è una piccola fettuccina che va a collegare il picchetto alla piastrina dove poi va inserita la paleria. Qui c'è la paleria e qui troviamo anche la fettuccia del telo esterno che sono andato naturalmente a tirare. Così va a comporsi ogni singolo lato della tenda. A metà poi, più o meno a questa altezza, troviamo un primo velcro per andare ad agganciare il telo esterno con la paleria e troviamo un altro anche più o meno a questa altezza, diciamo a metà altezza della paleria. Sempre a metà altezza troviamo anche il cordino dato in dotazione al ferrino per poter picchettare la tenda a terra nel caso ci dovesse essere forte vento, che in questo caso noi lo lasciamo qua perché vento non ce n'è. Continuiamo. Come vedete la tenda va abbastanza a rastricarsi nella parte posteriore. A metà troviamo un altro cordino per andare un po' ad aprire la camera e sicuramente anche a fissare la tenda. vi faccio vedere che il telo esterno scende ma si ferma a metà, si ferma più o meno a tre quarti. Come vedete questo qua, quella parte inferiore, è il pavimento della tenda. Quindi diciamo che il telo esterno non arriva fino alla fine per terra. Continuando, qui naturalmente cosa troviamo? Beh, la stessa identica struttura che abbiamo visto prima per fissare la tenda. Troviamo inoltre nella parte posteriore un gancetto che volendo potrebbe aiutarci a tirare la tenda ma non sono dati in dotazione ulteriori cordini per poterlo fare. Da quest'altra parte, sempre in basso, troviamo naturalmente il picchetto per picchettarla e anche qua dietro, come potete vedere, il telo esterno finisce più in alto rispetto a dove arriva il catino. Continuando, da quest'altra parte la tenda è praticamente simmetrica. Troviamo sempre il cordino a metà e poi, vabbè, anche di qua altro cordino, lo stesso identico sistema per il picchetto inferiore. Finiamo sulla porta, tornando da quest'altra parte, perché qui troviamo l'unica finestra presente in tutta la tenda per andare a far uscire un po' l'umidità. Noi adesso andiamo ad aprirla, ma vedete che la finestra è abbastanza piccolina. A questo punto possiamo procedere guardando com'è fatta la porta principale con la sua veranda. Vediamo com'è fatta la porta principale, la veranda. Innanzitutto, la porta è questa qua e vi assicuro è abbastanza piccola. Abbiamo un velcro a poter andare ad aprire per poter scaricare la tensione della cerniera e troviamo due cursori dati in dotazione, in modo tale che noi volendo possiamo aprire anche la porta per tre quarti, un po', come ci piace. Io la vado ad aprire completamente e vado anche a farla su. Si fa su molto facilmente e qui c'è il gancettino per poterla fermare. La veranda com'è? È abbastanza piccola. Vi assicuro è abbastanza piccola. Se dovessimo farci stare, che ne so, due zaino trekking da 50 litri, con anche le scarpe, magari qualche altro materiale, è abbastanza piccola. Qualcosa dovremmo sicuramente tenere all'interno e qua dipende, poi se siete persone grosse o piccoline, dipende un po' la vostra stazza, perché comunque davvero qui fuori c'è poco poco spazio. La cosa che mi è piaciuta però di questa veranda è che noi possiamo, andando a sollevare il picchetto posto qua davanti, continuare a farla su e in questo modo praticamente arriviamo ad avere la veranda completamente aperta. Qui c'è l'altro gancetto. In questo modo, come vedete, la tenda è completamente aperta. Abbiamo la nostra porta interna e così è molto più areata in generale la tenda. Adesso andiamo a vedere all'interno cosa troviamo. Siamo all'interno della tenda. Prima sono andato ad aprire la porta del telo interno, in cui già possiamo vedere che c'è anche diverso telo che va a proteggerci dal vento. Come vedete c'è una particolarità in questa tenda, ovvero che qua dietro c'è l'esterno. Perché mi sono messo tendenzialmente al contrario rispetto a come mi metto di solito? Perché questa, quindi la modalità in cui adesso voi mi vedete, è la direzione in cui si dorme. Quindi tendenzialmente dalla vostra parte, dove adesso siete voi, io andrò a appoggiare i miei piedi avendo la testa contro la parte principale. Quindi in questo modo si dorme. Possiamo capirlo tendenzialmente da due cose. Primo perché ce lo dice Ferrino. Secondo perché da questa parte, come potete vedere, abbiamo un telo del catino molto alto che va pian piano rastricandosi finché non arriva al finale della tenda. In questo modo poi avendo un telo anche abbastanza alto ci protegge in bene dal vento se abbiamo delle nottate con magari un po' di vento. In generale come si sta all'interno di questa tenda? È una tenda sicuramente molto molto intima. Considerato il fatto che le pareti vanno a schiacciarsi molto, che la tenda poi tende a scendere in coda, davvero è una tenda molto intima. Se teniamo la testa da questa parte, quindi dove sono io comunque di altezza, ne abbiamo parecchia, cioè probabilmente c'è più di un metro d'altezza. Larghezza? Ci siamo, nulla da dire. Se invece per qualche motivo dovreste dormire al contrario, quindi mettendo la testa dove siete voi e i piedi dalla parte finale, da dove c'è la porta, allora diciamo che di là c'è abbastanza poco spazio, soprattutto in altezza. Larghezza è sempre quella, in altezza c'è meno spazio. Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto nella parte interna di questa tenda? Allora, mi piace innanzitutto il fatto che troviamo il catino che sale abbastanza in modo tale da essere coperti molto bene dal vento. A livello di areazione, bene ma non benissimo, nel senso la condensa riesce un po' ad uscire, ma nelle notti abbastanza ostiche se ne crea un po', perché comunque la finestra messa sulla porta principale è a mezza altezza della tenda e quindi un pochino in alto comunque ristagna l'aria calda che tende a condensarsi. Mi sono piaciute anche le cuciture, in generale fatte bene, termonastrate, alcune con doppio cucitura, quindi fatto molto molto bene. Fatto bene anche il catino, io l'ho strusciato su delle rocce, abbiamo dormito su qualche roccia durante un paio di notti, non si è rovinato, quindi diciamo che materiali fatti bene. Mi lascia un po' perplesso questa cosa di dormire con la testa dove c'è la porta. Per molti motivi, perché comunque quando andiamo a posizionare la tenda, si tende a mettere la porta verso il basso, quindi a dormire con la testa un pochino più alta, è qui un po' un casino, anche perché se invece andiamo a porre la testa dove dobbiamo dormire in alto e abbiamo fuori degli oggetti nella veranda, questi tendranno a caderci addosso. Diciamo che secondo me poteva essere studiata un pochino meglio. Nessuno toglie che possiamo dormire naturalmente dall'altra parte e a quel punto abbiamo un po' sorpassato questo discorso. Aspetto che a mio parere poteva essere migliorato è poi anche la grandezza in sé della parte interna. Potrebbe essere migliorato semplicemente andando ad attaccare in questo punto il tele esterno con il tele interno e utilizzare il tensore esterno per poter andare ad aprire ulteriormente la camera. Questa cosa non si può fare se non andiamo a tirare la parte esterna, il tele interno rimane posizionato lì dov'è, quindi non andrà ad allargarsi. In altezza poi io ci sto senza nessun problema e vi ricordo sono sempre alto un metro e novanta secondo me ci si sta anche se alti 200-205 centimetri quindi nessun problema, due materassini ci stanno senza alcun problema quindi vivibilità interna diciamo che è una tenda abbastanza intima però comunque si sta bene all'interno. Per concludere la camera interna vi racconto che nelle parti laterali qua della porta principale abbiamo due tasche dove poter andare a riporre qualche oggetto dove vogliamo che sono anche vicino a dove andrebbe messa la testa per dormire e in alto qui sopra di me c'è anche un gancetto dove andare a riporre una lampada quindi il ferrino l'ha studiato molto bene. Detto ciò usciamo e vediamo le conclusioni. Arriviamo dunque alle conclusioni per questa ferrino tar 2. Prima di dirvi se ve la consiglio o no il fattore vento che mi stavo dimenticando di dirvelo all'interno naturalmente il vento si sente poco per come abbiamo visto resiste in generale diciamo fino a un 50 km orari 60 se la posizionate abbastanza bene è una tenda sì che un po' resiste al vento ma non ha comunque una gran struttura per poter resistere a delle raffiche molto elevate. Vi consiglio dunque l'acquisto di questa ferrino tar 2 principalmente sì innanzitutto per il peso perché comunque abbiamo una tenda autoportante e doppio telo con un chile otto totale di peso è piccolina da trasportare quindi molto semplice da riporre anche all'interno dello zaino. So bene che non è super spaziosa ma volendo andare a ridurre un po' il peso sono andate a ridurre anche lo spazio all'interno. Secondo me questa è una tenda pensata principalmente per chi fa bivacco notturno del tipo arrivo la sera, piazzo la tenda, dormo, al mattino me ne vado quindi per il backpacking principalmente non tanto per viverci all'interno quindi ci serve il minimo essenziale. Detto ciò ragazzi una speranza sia stato esaurimento e esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!